Salve a tutti, siamo qui al Moto Days di Roma 2014, oggi è giovedì 6 marzo 2014 appunto, è prima giornata inaugurale della fiera delle due ruote più importante d'Italia insieme all'EICMA di Milano. Marco Melandri e Silvain Guintoli, che sono le dueci dalla vittoria Guintoli in Superbike recentemente, in gara 1, hanno inaugurato insieme all'assessore di Roma e ad altri organizzatori dello staff del Moto Days questa prima giornata della fiera che durerà fino a domenica sera. L'affluenza è buona, il tempo ha retto, sta anche uscendo il sole qui a Roma, siamo verso la periferia, verso il mare, verso Ossia, sulla Roma Fiumicino, e dicevo l'affluenza è buona, nel tempo ha retto, ci sono appena state anche le esibizioni degli stunt, abbiamo visto un po' di qualche stand meno grande del solito, o un po' meno Ossia, insomma un po' la crisi si vede anche nel settore delle moto ovviamente, la crisi è qualcosa di trasversale. Comunque verranno anche nei prossimi giorni altri campioni della Superbike, come Ceca, come Davide Giuliano ed altri, e insomma ricordo che anche c'è un settore dedicato alle moto vintage, alle moto custom, all'Harley Davidson, si possono anche provare delle moto qui nello spazio fuori ai padiglioni, insomma è un evento che consiglio non soltanto a chi è amante delle due ruote, ma anche a chi ama comunque vedere oggetti belli, belle ragazze, perché no, e anche gadget, e divertirsi nel vedere gli spettacoli. Gli spettacoli di istante si susseguono al ritmo di quasi ogni ora ciascuno, e speriamo che il tempo regge, per il momento è tutto, un saluto e vi consiglio di vedere tutti gli altri video che abbiamo pubblicato.